we bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo specialissimo video io sono xyuder e ragazzi con la patch 13.30 è arrivata una nuova missione segreta vi ricordate dove siamo siamo eserciati esattamente in alto a sinistra nel quadrato b1 vi ricordate ragazzi tutti questi esserini molto simpatici dove gli avevamo lasciato un sacco di legna l'ultima volta beh questa volta dobbiamo raccogliere 300 di pietra ragazzi non è un problema farlo perché ci sono tante rocce che emergono e una volta che li avremo raccolti porca miseria bisognava interagirgli aspetta mi sa che ci si interagisce qua ecco qua ragazzi si va in questo piccolo boh chiamatelo come volete fortino quello che vi pare gli si danno 300 di pietra insegnato lavorazione della pietra ai compagni più compagni dei coralli l'era del legno ragazzi due challenge completate loro hanno costruito questa piramide molto divertente spero che vi sia rimasta utile anche questa challenge io vi ringrazio per aver guardato questo video mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao